E' caos totale ormai sulla scelta della sede per ospitare il match tra Brindisi e Cavese, spareggio valido per la promozione in Serie C nel Girone H di Serie C. Oltre 10 città hanno rifiutato fino a questo momento di ospitare l'evento tra motivi legati all'ordine pubblico e la concomitanza con le elezioni amministrative in programma domenica prossima. Per questo motivo la Lega Nazionale di Lettanti dopo l'ultimo rifiuto giunto questa mattina da parte della città di Matera con un comunicato piuttosto duro del sindaco della città di Sassi ha fatto un ultimo disperato tentativo per provare a giocare a Vibo Valencia ma anche in questo caso la situazione non si è sbloccata se non dovessero giungere notizie positive da Vibo nelle prossime ore per evitare problemi per i club e per le rispettive tifoserie. A quel punto il match sarà rinviato a mercoledì 17 maggio o in alternativa a domenica 21 maggio. In questo caso la Lega Nazionale di Lettanti darà facoltà ai club di scelta rispetto alla data in cui disputare l'evento.